Dopo tre vittorie esterne consecutive il Palermo è tornato da Cesena con un punto nonostante un ottimo primo tempo ed il gol dei padroni di casa scaturito da un rimpallo. Un pari quello di ieri che però permette di concludere le trasferte del girone d'andata senza sconfitte. Ma soprattutto che permette sempre di avere sempre più autostima alla squadra che crede moltissimo in se stessa. In questo momento è sul serio la squadra più forte del campionato e questo ha dato merito al nostro allenatore che ha formato un gruppo e una famiglia. Questo gruppo e questa famiglia ha necessità di una sola cosa che ci manca e con grande dispiacere. Dall'affetto dei tifoni del Palermo perché malgrado una media di 4.500-5.000 persone siamo in testa della classifica dominando il campionato. Tra i tanti protagonisti del match di ieri ancora una volta Tchaikovsky ha il suo secondo gol nelle ultime tre gare. Vale sempre lo stesso discorso per cui i giocatori vanno trattati con amore, con umanità, con tenerezza e non fischiati e non avviditi. Questo è un qualcosa che tanti giocatori soffrono, l'ha sofferto anche tra i costi ed è merito sempre di Terino e del suo gruppo aver ritrovato il vero uomo, il vero giocatore. Certe, certe sottigliezze, certe psicologie si ottengono e certi benefici si ottengono sempre con amore e la comprensione e non con i fischi e il disprezzo. Tra sei giorni al Barbera sarà di scena la Salernitana, a reduce da una pesante sconfitta interna contro le Foggia. Ma non è una buona notizia la pesante sconfitta che verranno qui cercando di non perdere e di fare il muro come cazzo. È una partita difficile come tutte le partite, sono difficili. Ieri è stata una dimostrazione per cui quando le squadre si mettono tutte in difesa, come ha fatto anche il Ceseno al secondo tempo, fanno praticamente tutta una barriera, è molto difficile scardinarle. Vediamo un momentino di riuscire a farlo con la Salernitana per chiudere in bellezza. Questo ci non è andato. Natale alle porte, che messaggio vuole mandare ai nostri tifosi? Io è stato, penso, il peggiore anno della mia permanenza a Palermo, dove per la sofferenza che mi hanno fatto determinati i fatti per i dolori che mi hanno provocato, che penso di non meritare per i miei 15 anni di lavoro a Palermo, perché è fatto con molta dedizione e con molto amore. È lo stesso amore che ho per la gente di Palermo, per i tifosi di Palermo, anche per quelli che mi hanno insultato o per quelli che non mi vogliono. Questa fa parte del mondo del calcio, non posso pretendere di più. Io auguro buon Natale veramente col cuore a tutti, a tutti i tifosi palermitani, a tutti i palermitani, sia quelli che sono prima da Palermo che io in giro per l'Europa e per il mondo. Palermo è un loro valore, sono sicuro che ritornerà in Serie A e che sicuramente dimenticheremo questi episodi brutti che lo hanno toccato da vicino perché sento di non meritarli e non li merito soprattutto il loro Palermo, perché il Palermo è loro, non è mia. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie. 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 Grazie.